Buongiorno a tutti, sono Antonio di Zeolit Italia. Oggi vi voglio parlare di un nostro nuovo prodotto. Si tratta di un estratto di alga marina in varie confezioni. Abbiamo deciso di portare nel nostro store un biofertilizzante affinché possiamo aiutarvi nel completare il ciclo produttivo di una stagione totalmente bio o comunque provarci. Questo estratto di alga contiene in diverse percentuali iodio, bromo, magnesio, rame, zinco, silicio, stagno e molto altro. Utilizzato in agricoltura svolge un'azione diretta contro batteri, virus, funghi tipo botrite, peronospera, idio e usato in fertilizzazione favorisce lo sviluppo e le dimensioni di ogni pianta. E questo anche per trattamenti fogliari. Per quanto riguarda il modo d'uso, per quanto riguarda gli arbeli da frutta, va utilizzato almeno una volta alla ripresa vegetativa della pianta per stimolarne la crescita, sia a livello fogliare che può essere utilizzata anche in fertilizzazione. E la stessa cosa è nell'orto. Va usata ed è scientificamente testato da noi, in combinazione con la zeolite micronizzata, perché questa aiuta la sostanza, fissandola maggiormente sulla pianta per maggior tempo e quindi rendendo praticamente più disponibilità del principio. Per adesso è tutto, a risentirci e alla prossima.